Sì, assolutamente, è stata una bellissima parola. Sicuramente la mia vittoria è più bella qui a Roma, quindi sono contentissima, ogni anno è una giocatrice molto fastidiosa, è un gioco pazzesco, molto forte, quindi sono contenta di essere venuta a fare questo grande match oggi qui a Roma. Oggi è una partita molto dura, un momento di svolta poteva essere in azionato 7, quando hai avuto due occasioni per andare 4 a 2, da quel momento la RIA giova in tennis pazzesco. Hai pensato che potessi arrivare la partita in quel momento? Sì, sì, l'ho pensato, ho avuto quelle chance, potevo staccarlo un pochino, invece l'ho fatto vincenti per 5-10 minuti incredibili, quindi sono stata brava a rimanere lì concentrata, soprattutto inizio del terzo set. Hai fatto anche ricorso la chiamata in campo del top coach Pablo Lozano, cosa ti ha detto in quel momento? Non mi ricordo benissimo, sicuramente mi ha detto di provare a stare lì, punto su punto, perché la partita ovviamente l'hanno giocato in suo forte, che non tirerava niente, quindi era normale che facessi quei vincenti, quindi di rimanere riconcentrati e di provarci fino alla fine. Ultima domanda, domani Bianco vince con Radvasca, se hai delle preferenze? No, sono tutte e due giocatrici molto in forma, molto forti, quindi sarà una lotta anche domani, dovrò fare una grande partita anche domani per vincere. Allora ti lasciamo andare a riposare, che domani sarà una intensa aggiornata anche con la semifinale di doppio. Assolutamente sì, la vorrei fare due mesi domani. Allora in bocca al lupo e speriamo di ritrovarci qui domani. Grazie, grazie. Ciao.